Il Tribunale di Patti, presidente Lazzara, Latere, Vona e Mandanici, ha inflitto due anni di reclusione appena sospesa ad un pensionato 80enne di Librizi, accusato di aver molestato una ragazzina che all'epoca dei fatti, accaduti diversi anni fa, era appena 13enne. Secondo l'accusa, l'uomo ben conosciuto dalla famiglia della vittima aveva offerto un passaggio a bordo della sua auto alla ragazzina, uscita di casa su commissione della madre per andare a comprare alcune cose in un negozio poco distante dalla loro abitazione. Secondo quanto riferito però dalla ragazzina, pare che l'anziano, offertosi di accompagnarla durante il tragitto verso casa, abbia tentato più volte di attirarla a sé, provando a baciarla e palpeggiando le varie parti del corpo. La giovane, nonostante l'uomo avesse chiuso gli sportelli dell'automobile, è quindi riuscita a divincolarsi, gettandosi dall'auto in movimento. Una volta a casa, la ragazzina ha quindi raccontato tutto alla madre, che a sporto denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. La pubblica accusa, rappresentata all'udienza dal sostituto procuratore Francesca Bonazinga, aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione. L'imputato, condannato a due anni pena sospesa più l'interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena, dovrà inoltre risarcire i danni alla vittima, secondo quanto stabilirà il giudice civile. La parte civile era rappresentata dall'avvocato Giuseppe Giannetto, mentre l'imputato era difeso dagli avvocati Giuseppe Ripa e Giuseppe Mancuso.